...della comunicazione che ha fatto, che è molto interessante, in Piale a Tappe, secondo me proprio perché tocca, come ho detto, scusa le parti, se non vuoi, dico entroterra, zona americana, interna, interna, zona interna, zona interna, questa è nuova, non è male, le zone interna sul territorio. Sono dieci anni che facciamo questa manifestazione e anche quest'anno, nonostante le lezioni, nonostante poi i problemi che ci sono finanziati per tutte le famiglie, che sono stati per tre giorni, è sempre molto difficile, anche oltre il costo, poi i bambini che vanno a scuola, la sistemazione, tutte queste cose qua, è abbastanza problematica. Nonostante questo, riusciamo a mantenere più o meno gli stessi numeri, siamo su 100 iscritti, di conseguenza, secondo me, è una cosa già importante questa, come stiamo vivendo in questo momento. Abbiamo persone che provengono dal Friuli, Venezia Giulia, dal Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia, del Veneto, adesso abbiamo telefonato proprio dal Veneto, che vengono quattro persone da Treviso.